Restano le criticità più tragiche. I decessi non diminuiscono come non diminuiscono anche i ricoveri in ospedale. Però la curva del covid in Molise da un mese sta scendendo, seppure lentamente il calo nella diffusione del virus è ormai costante. E' questa la doppia faccia dell'emergenza dell'ultimo periodo. Cominciamo proprio dalla diminuzione del contagio. I dati parlano chiaro, questi sono i numeri delle ultime quattro settimane. A fine febbraio ci sono stati 583 positivi in sette giorni, mentre nella settimana appena passata i nuovi contagi sono stati 355. Diminuisce anche il tasso di positività e cioè il rapporto tra i nuovi positivi e i tamponi processati. Un mese fa era al 10,9% e sceso poi al 9,2 all'8,8 fino ad arrivare all'8,3 della settimana scorsa. Numeri questi che hanno ripercussioni ovviamente sull'indice RT. Siamo lontani dal picco del 5 marzo scorso, quando il Molise raggiunse l'1,6, oggi il dato è 0,89. Anche i nuovi contagi ogni 100.000 abitanti, dato che pesa molto sull'attribuzione dei colori delle regioni, oggi è sceso a circa 90 positive ogni 100.000 residenti. In regione calano anche gli attualmente positivi. Un mese fa erano 1.744 i malati sul territorio, oggi sono 1.328, 1.428, dunque 416 in meno. Ma veniamo ai dati che invece non migliorano. I ricoverati in ospedale sono sostanzialmente ai livelli record di un mese fa. 113 pazienti tra Cardarelli, Santimoteo, Gemelli, Neuromed e malati trasferiti in ospedali di altre regioni. In aumento invece le terapie intensive da 13 a 19. Non scende nemmeno il numero dei morti, 87 i decessi degli ultimi 30 giorni. Infine il dato dei guariti che in un mese sono oltre 2.000 in più. Vediamo anche dai numeri invece gli effetti delle varianti del virus. A ottobre, dunque all'inizio della seconda ondata, quando le varianti ancora non circolavano, in Molise i malati di Covid con sintomi più gravi erano appena il 3% del totale. Oggi sono il triplo, il 9% del totale. Nel dettaglio ad ottobre c'erano 18 ricoverati su 532 contagiati. Adesso ci sono 120 ricoverati su 1.328 positivi.